dunque manca veramente poco, 80 secondi ora al termine Siena avanti di uno, ci si gioca la semifinale Heinz, Ress, ancora per Ress, Ress cosa ha fatto Thomas Ress? Bibane rovesciata, Thomas Ress cosa ha fatto? schiacciata e rovesciata, due mani a un minuto e otto secondi dal termine il coraggio del capitano di Siena fallo d'attacco, Bibane, è indovinato un po' chi l'ha preso il pallo Thomas Ress, se Siena vincerà non abbiamo nessun dubbio su chi dare l'NVP della partita ma è ancora lunga, un minuto e tre secondi cosa ha fatto Thomas Ress? schiacciata, ha due mani rovesciata incredibile davvero